Valentina hai finito la doccia, ti muovi? Sì ho finito, sto arrivando, sto arrivando Vai a cambiarti dai Michele, puoi uscire dalla camera per favore? Perché devo uscire? Perché mi devo cambiare, ok? Guarda che questa è anche camera mia Michele, esci subito, per favore guarda che non dico la mamma, eh Un anno fa ti cambiavi davanti a me Beh, un anno fa, ok? Adesso tutto è cambiato Mamma, glielo puoi dire a Michele che esci dalla camera, per favore? Michele, esci subito che tua sorella si deve cambiare Ma perché? Tua sorella sta diventando una signorina Michele, esci Hai capito? Sto diventando una signorina, ok? Ok, esco, tutte queste storie che è anche piatta Ah, mamma mia Uabini